Dopo tre settimane tornano i sondaggi, i primi del 2022, a pochi giorni dalla prima votazione per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Sapete le discussioni senza tante presentazioni, andiamoli a vedere immediatamente. Allora, Partito Democratico, praticamente tre settimane senza effetti perché rimane invariato con i più consensi relativamente agli altri partiti. Insomma, vedete, 22,2, rimane a 22,2. Sale Fratelli d'Italia 0,2 da 19,7, adesso si trova a 19,9 e aumenta il distacco nei rapporti di forza nella coalizione centrodestra rispetto alla Lega, che invece paga evidentemente le discussioni e comunque lo stare forse al governo perché cala dal 19,6, passa al 19, tondo, tondo. Aumenta anche se di poco, in questo caso evidentemente le discussioni interne che pure ci sono state non hanno pesato sul risultato perché aumenta di 0,1 il Movimento 5 Stelle al 14%, risale Forza Italia prima della pausa era scesa, invece riguadagna 0,4 punti, arriva, si attesta quasi a 8, 7,8. Come vedete, azione risale di 1, 0,1, passa da 4 a 4,1, azione di calenda. I verdi perdono 0,2 ma rimangono così, diciamo, nella prima schermata, nella prima parte della classifica. Andiamo a vedere la seconda parte e allora troviamo che, se vediamo, cambiamo il cartello, Allora, a proposito di discussioni, è possibile addirittura passaggi di partito, sapete che l'articolo 1 sta valutando il possibile rientro nel Partito Democratico, ma insomma, guadagna dalle discussioni, passa al 2,4. Sinistra italiana all'opposizione, frato gli anni, perde poco, ma insomma sta al 2,3. Italia Viva di Renzi, quasi invariato, 2,1, più Europa a 1,6, guadagnano 0,1 e vedete, appare per la prima volta con una percentuale di 1,1, ma il partito di Gianluigi Paragone nel senatore ex 5 Stelle, Italexit con 1,1, altre liste 1,1 e qui hanno perso 1,0,3. Allora, così i sondaggi...